Adesso vi raccontiamo una chiave, ma non è una chiave basata su un fatto vero forse. In alto, fra le montagne, c'è un paesino con un campanile piccolo, ma molto snello, e con la punta a luzza. Il paesino si trova proprio nel mezzo di una valle piuttosto ampia. Un colle separa questa valle da una vallata vicina. Dall'una si può raggiungere l'altra lungo un sentiero più o meno in terrore di cammino. Per i montanari a pezzi alle grandi distanze e alle pesanti fatiche è una cosa da nulla. A mezzogiorno è visibile una montagna coperta di neve dietro il colle. Tutto l'anno, l'inverno e l'estate, la montagna si affaccia sulla valle dominandola con la sua bianca distesa. Il paesino si chiama Gschail, e la montagna Gass. E oltre il colle c'è un borgo, Misdol. E oltre il colle c'è un borgo. E oltre il colle c'è un borgo. Ecco che si odono le campane. È la vigilia di Natale. I fanciulli imparano a salutare Gesù un bambino che viene al mondo. Il bambino anche lui, il più mirabile che mai si è venuto sulla terra. L'epo di questa giornata rietta e magica dura a lungo. E il suo riflesso illumina ancora le campature. E assistiamo volentieri alla festa e alla gioia dei bambini. L'epo di questa giornata rietta e magica dura a lungo. E oltre il colle c'è un borgo. Grazie a tutti. C'erano, Akshani, due bambini, Corrado, che mostrava già la serietà di carattere di suo padre Sebastiano e il calzolaio del paesino, e la sorella Susanna, o, come si diceva per abbreviare, Sanna, che aveva una grande fiducia nel giudizio e nella forza di suo fratello. Spesso si potevano vedere due bambini che uscivano dal paese per andare dai nonni materni a Misdorf attraverso il sentiero che permetteva di superare i colleghi. Grazie a tutti. L'alba della sicilia di Natale era illuminata da un'incantevole luce. L'aria era tesa e sottile. La mamma, vedendo una giornata così bella, disse ai suoi bambini, è una bella giornata, non piove da tanto tempo, il sentiero è asciutto. Potete andare oggi a trovare a Misdorf i nonni. Li vestì, li vede visse con un segno di croce e li vide partire. La mamma, vedendo una giornata così bella, disse ai suoi bambini, è una bella giornata. A Misdorf la nonna le aveva visti arrivare da lontano e era venuta incontro ai nipotini li portò in casa, fece aggiungere l'ina nella stufa e dopo il pranzo diede a ciascuno un pezzo di pane. Mise nella misdacia il corrado a due pani bianchi e anche una bottiglietta con estratto di caffè. È migliore di quello della mamma, disse. Ditele che lo assaggi e sentirà, ne basta un sorso per scaldare lo stomaco. Dopo aver chiacchierato un po' con i nipotini, la nonna disse che era tempo di ritornare a casa. Attenti a non portare il freddo, non correte per i prati sotto gli alberi. Se verso sera si leva il vento, camminate ad agio. Salutate il babbo e la mamma e fate loro tanti auguri di buone feste. La nonna li baciò sulle guance, i bambini lasciarono un mistro passando accanto ai campi del nopo e presero la strada che risaliva lungo il colle. La nonna di un po' con i nipotini, la nonna di un po' con i nipotini, la nonna di un po' con i nipotini. Ma quando raggiunse il sentiero e si vedeva ancora in lontananza il fitto bosco che copriva la maggior parte di strada ancora da percorrere, sulle alture cominciò a nevicare bianchi, lenti, grandi fiocchi di neve. La nonna di un po' con Chenna Vedi sana, disse il ragazzo, io lo sapevo che avevo avuto a dire, quando siamo andati via dalla casa del nono, si vedeva ancora il sole, era rosso come la lampada del santo sepolcro, adesso non si vede più e sulle cime degli alberi c'è soltanto nebbia grigia, questo vuol dire sempre che sta per nevicare, nevicherà anche da noi nel villaggio, domandò Sanna, naturalmente rispose il ragazzo e stava anche facendo più freddo, vedrai che domani lo stadio sarà tutto gelato e cominciò a camminare più veloce, la bambina raddoppiò i suoi piccoli passi per non rimanere indietro e per stare alla pare con il fratello e camminavano molto rapidi, ma il sentiero continuava a salire. Sanna, naturalmente rispondiò i suoi il vento che la nonna aveva predetto non si era ancora levato ma mai convenso la leve che arriva sempre più finta e Corrado diveniva più serio. procedeva con fiducia nella certezza che presto avrebbero vettuto la colonnina rossa, era quello il punto lungo il sentiero dal quale si invocava l'ultimo tratto di strada, quello giusto per arrivare al villaggio, a casa. ma intanto si era fatto un gran silenzio e mentre proseguivano la nevicata era così fitta che si potevano vedere soltanto gli alberi più vicini, i bambini insaccavano la testa e i vestiti e andarono avanti. Corrado, ma dove siamo? Non lo so, se soltanto riuscissi a vedere qualcosa. Mentre continuavano a salire, intorno c'era il bianco, il bianco e nient'altro. a salire, intorno c'era il bianco, il bianco e nient'altro. a salire, intorno c'era il bianco e nient'altro. I due bambini andavano avanti e il paesaggio intorno a loro veniva irreale, sempre più aspro e terribile, sempre più incantato. Strane architetture di ghiaccio, come palazzi crollati, fantastiche torri li fiancheggiavano, stringendoli sempre più da vicino. tutto si colorava di verde, di azzurro, di biancastro, a volte con riflessi dorati o argenti o addirittura pur pur puri. a salire, intorno c'era il bianco e nient'altro. a salire, intorno c'era il bianco e nient'altro. a salire, intorno c'era il bianco e nient'altro. Camminando nel gelo sempre più acuto i bambini entrarono improvvisamente sotto una strada volta era un ambiente asciutto e sotto i piedi Corrado e Sanna avevano ghiaccio liscio e terneccio nella grotta tutto era azzurro azzurro come nulla al mondo azzurro, più profondo del colore del cielo simile a un vetro genuleo era sceso un muoio totale Corrado decide che avrebbero trascorso la notte al riparo di quella grotta Susanna era prossima alla disperazione e aveva paura, molta paura ma per non turbare il fratello si fece coraggio e finse di avere più forza di quello che aveva ma fu cotta dal sogno e la sua testa cominciò a ciondolare azzurro come nulla al mondo azzurro come nulla al mondo e la sua testa e la sua testa azzurro come nulla al mondo Susanna Susanna non devi dormire Susanna se ci si addormente in montagna Susanna ti ricordi lo detto anche il papà se ci si addormente in montagna si muore di freddo come è accaduto a vecchio cacciatore del trasno che si è addormentato da rimasto a quattro mesi morto seduto su un sasso e nessuno sapeva dove fosse finito Susanna tentò di tenersi in sveglia quando dopo corrando al buio sentì che la testa di lei gli si abbandonava su una spada allora la scorsa energicamente la costrinse a levarsi in piedi mangiare il pane della nonna e vuotarono quasi tutta la bottiglietta del caffè e i due bambini sentirono allora caldo dentro e si rincuorarono un po' e divennero più vivaci e divennero più vivaci ma poi ebbe fine l'effetto benefico del cibo e del caffè corrando mi va sempre in mente la solda del cacciatore assiderato ma né lui né Sam avrebbero ormai potuto vincere il sonno la cui sua dente dolcezza è più forte di ogni reazione e di ogni ragione non l'avrebbero potuta vincere la sua avenzia del sonno se la natura stessa non li avesse assistiti donando loro un'insolita possibilità di resistere e di ogni ragione e di ogni ragione quindi Sera fatta ormai mezzanotte E le campane di Scheide e di Mistor da lontano cominciarono a suonare E tendendo il legno si saranno potuti udire le campane di altri villaggi all'infinito Nello sterminato silenzio si udì lo schianto del ghiaccio Un rumore inquietante che si ripeteva più e più volte Allora i due bambini sedessero sulla soglia della grotta E sopportando il freddo cominciarono a guardare il cielo stellato Ma ormai mi avevano veduto uno di simile E mentre guardavano fiorì dimanzi a loro nel cielo Una luce verde palido come un arco teso fra le stelle E poi divenne smorto e scomparve E le stelle splendevano e tregolavano E qualche stella cadente passava rapida fra esse E poi la stella cadente passava rapida fra le stelle Così trascorsero le ore E i bambini avevano mai vinto il sonno E finalmente il cielo cominciò a farsi più chiaro Alcune stelle si spesero, altre si tiradarono Infine si colorò di giallo una zona del cielo E un lembo di nuvola che era in essa si accese E divenne un nastro lucente O alle colline le cose si disegnavano nitide Sanna se fa giorno andiamo Si corrava Un gigantesco disco di color sanguigno Si alzò nel cielo dal loro nervoso dell'orizzonte E in quell'istante La neve intorno ai bambini si colorò di rosso Come se qualcuno vi fargesse su milioni di rose Uscirono sulla neve E si sentivano rinvigoliti Anche se non arrivano dormito Ed erano allegri Ma Ma un nevaglio Seguiva un altro nevaglio L'astre di ghiaccio All'astre di ghiaccio Mancava qualsiasi orientamento Qualsiasi segno riconoscibile Corrado Decise di non mostrare alla sorella il proprio timore E sorrideva Per assicurarla Come il cuore che impazzava nel petto Aguzzava la vista in tutte le dimensioni All'astre di ghiaccio All'astre di ghiaccio Finalmente gli parlano di vedere quel zale un fuoco, ma non era un fuoco, era una bandiera color granata. L'aspetto avanti il pastore Filippo, che con i suoi due figli e molti uomini venuti da Shire e anche da Mistor, si era avviato in cerca di bambini dispersi non appena si era sparsa la voce che essi non avevano fatto ritorno. Raccolti con gioia, Conrado e Susanna furono portati nella capanna dell'Alpeggio. Raccolti con gioia. Raccolti con gioia, Conrado e Susanna furono portati nella capanna dell'Alpeggio. La voce rotta dall'emozione si rivolgeva agli astanti. Vi ringrazio amici. Intanto la piazza del villaggio si era riempita di gente e dal piccolo campanile a Guzzo veniva il suono delle campane. La nonna, arrivata a fatica da Mistor, durante la notte era anche un mossa, ma faceva la voce severa con la figlia più che con i nipotini. Mai più eh, mai più i bambini prenderanno la via del colle d'inverno. I bambini mangiarono e furono messi a letto. Susanna però non riusciva a ridere. Mamma, mamma, senti mamma, mamma. Ma, ma c'è sul bambino. È arrivato anche lui. La mia cara, la mia brava bambina. Ma sì, è arrivata, ti ha portato i toni che presto vedrai. I bambini non dimenticheranno mai la montagna di casa. E quando la guarderanno dal villaggio ti faranno serie e pezzosi nel contemplarla. Li verranno adulti, avranno figli e nipoti e quanto saranno in giardino. E il sole splenderà. E il figlio spacerà il suo profumo e nonzeranno le api. Solleveranno gli occhi verso quella cima nevosa e impiacciata. E la montagna li guarderà dall'alto, azzurra e incantata, come la dolce volta del cielo. E la montagna li guarderà dall'alto, azzurra e incantata, come la dolce volta del cielo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.